Le ultime parole sul caso d'Aversa e Henry, c'è stata molta polemica ieri soprattutto da parte dei giornalisti perché sono state date solo 4 giornate a D'Aversa e 1 al giocatore del Verona. Come dicevano giustamente i giornalisti sia della radio che della televisione, a volte per interventi meno pesanti vengono date 4-5 giornate, qua per una testata vengono date 4 giornate all'allenatore. Io credo che in questo momento bisogna stemperare questa situazione, non risaltarla e non dargli troppo valore perché si sta dando valore a una cosa che non è di esempio né per i dirigenti né per gli atleti nel calcio e che secondo me è un pessimo esempio per quello che è l'attuale mondo del calcio che avrebbe bisogno di avere più notizie positive, più positività, più serietà e meno frivolezza e stemperare un evento che ha dimostrato quanto conti talmente tanto risultato, ci sia tanta enfasi nel calcio che poi si arriva a fare dei gesti che secondo me sono sconsiderati soprattutto da parte di un allenatore che ha sempre dimostrato di essere calmo, tranquillo, quindi secondo me è un episodio, un evento bisogna stemperare, lasciarlo andare e chiuderlo lì. Gli ha dato 4 giornate, gli hanno dato 4 giornate, non andiamo avanti a parlarne perché si risalta una cosa che secondo me dovrebbe essere invece stemperata.